Signore Gesù Cristo, possiamo solo lodarti e ringraziarti per questa nuova settimana, una settimana speciale nella quale ci darai la più grande prova del tuo amore attraverso la tua passione morte e risurrezione. Aiutaci a vivere pienamente questo grande mistero della nostra redenzione per testimoniare del tuo amore nella nostra vita quotidiana. Amen. Amen.